Dall'Europa viene anche la prospettiva di misure molto stringenti in tema di inquinamento atmosferico. Abbiamo parlato anche oggi con la Vice Presidente, abbiamo evidenziato la particolare situazione, ci è stato detto che dopo la nostra visita a Bruxelles stanno esaminando la situazione particolare orografica della nostra regione per applicare delle misure che tengano conto di questa situazione, perché noi immettiamo un terzo rispetto a quelli che sono i limiti stabiliti dall'Europa, quindi la nostra parte l'abbiamo fatta adesso per andare a trovare la situazione, le condizioni per superare il punto legato solo al numero dei giorni di superamento.